La battaglia contro le infiltrazioni mafiose nella ricostruzione la devono combattere i cittadini e non solo le istituzioni. Così il sindaco dell'Aquila Massimo Cialenti commenta la relazione semestrale della DIA, la direzione investigativa antimafia diffusa proprio in questi giorni. Un intero capitolo del documento è dedicato al capologo di regione colpito dal sisma alle presi con una enorme opera di ricostruzione senza precedenti in Italia, dove stanno confluendo ingenti risorse pubbliche e tante ne arriveranno anche in futuro, bocconi succulenti o per la criminalità organizzata. Il rapporto della DIA ripercorre le vicende e le inchieste legate alla corruzione negli appalti, focalizzandosi sulle ingerenze della camorra come nell'inchiesta a dirty job e del traffico illecito dei rifiuti. Per fare da argine alla criminalità per Cialenti occorre denunciare. La vicenda dei rifiuti è che c'è stata, secondo me, mancanza di controlli, perché se è vero che 300 mezzi attraversavano allegramente la città che io amministro, visto che qualcuno doveva fare i controlli, il problema sta nei subappalti. Ora, con la legge noi non abbiamo ottenuto tutto quello che avevamo scritto, in particolare l'ho scritto io sulla white list, sui subappalti e così via, ma è chiaro che in questo momento va gettato uno sguardo su chi sono i subappaltanti, da dove vengono e soprattutto come le nostre imprese, dico nostre, quelle che hanno preso le commesse, danno questi subappalti. È un dato il fatto che risultano che si hanno subappalti a dei prezzi stacciati che stanno impedendo ai nostri artigiani di poter concorre. Io questa mattina ho segnalato alla Guardia di Finanza una situazione che a mio avviso deve essere indagata su delle forniture, ho dato una serie di elementi, una serie di nomi di persone che si possono chiamare per avere ulteriori informazioni, perché io tutto quello che arriva alle mie orecchie immediatamente la trasmetto a chi deve avere, in questo caso è stato la Guardia di Finanza. Dobbiamo fare tutti così.